Anche la palestra dell'ex cavallerizza ducale Maria Luisa in centro ha a disposizione un defibrillatore DAE grazie all'associazione Mirco Ungaretti Onlus, al finanziamento del Rotary Club Lucca, all'istituto Passaglia che utilizza l'immobile e alla provincia di Lucca che ne ha consentito l'installazione. Stamani, 25 maggio, alla cerimonia di inaugurazione, si è tenuta nella palestra una lezione di fronte agli studenti della scuola superiore. La nostra associazione è nata appunto nel 2012 in memoria di Mirco che era mio fratello e da qui abbiamo iniziato a insegnare nelle scuole la rianimazione cardiopolmonare per dare a tutti la possibilità che la mia famiglia non ha avuto quella notte che abbiamo perso Mirco. In parallelo abbiamo iniziato, grazie alla provincia, ai comuni e alle associazioni che ci hanno aiutato, a installare defibrillatori pubblici. L'abbiamo fatto nel 2012 e oggi che siamo nel 2024 siamo arrivati con questi defibrillatori a 123 defibrillatori sparsi sul territorio della provincia di Lucca. Un grande interessamento da parte dei ragazzi, infatti sono proprio loro a chiedere ai professori che gli vengono insegnate le manovre salvavita. Sì, tanto che noi abbiamo all'interno dell'associazione ben 105 insegnanti di volontari che insegnano dall'asilo fino alla quinta superiore due ore anno di rianimazione cardiopolmonare. Anche Rotary Club Lucca riconosce l'importanza di avere a disposizione un defibrillatore DAE. Il Rotary Club Lucca fino dal 2015 ha intrapreso questa attività di donare nei luoghi particolarmente affollati o particolarmente lontani nel territorio, difficilmente raggiungibili per una pronta assistenza, i defibrillatori. Con questo dovremmo essere al decimo nel periodo che trascorre tra il 2015 ed oggi. Io personalmente tra l'altro lo faccio con particolare piacere perché tre anni fa ho perso un fratello di 57 anni proprio perché non è stato possibile poterlo rianimare in quanto si trovava molto distante da una possibilità che può dare un oggetto come questo. Quindi ancora di più per me questa installazione ha un valore particolare. particolare.